0-0 tra Eurogirifalco e il Pianopoli, lo scontro al vertice per la ottava giornata del campionato di seconda categoria Girone D, 1-0-0 che in pratica ha visto un Eurogirifalco alla ricerca della vittoria che gli sarebbe valsa la gancio in vetta alla classifica, così non è stato bravo il Pianopoli a chiudersi, un po' meno forse questa volta i suoi attaccanti, mister Cristoforo, davvero oggi hanno trovato una difesa che oltretutto è la migliore del Girone con un solo gol subito. Si è visto, il Pianopoli è una buona squadra, lo sopravvamo, già noi l'avevamo incontrato ogni anno in prima categoria, quindi noi la conoscevamo bene, avevamo preparato bene la partita, si è visto perché su 90 minuti, noi 80 minuti abbiamo avuto il passaggio dalla palla e oggi gli attaccanti, peccato, peccato veramente. Diciamo che le ha tentate tutte in campo, addirittura prima Leonardo in difesa, poi è tornato in attacco, Rando è tornato indietro, però non c'è stato verso, cosa è mancato ai suoi uomini? E guardate, non lo so, ecco Rando è arrivato in ritardo perché lavorava, quindi è arrivato alle due e mezza, quindi abbiamo dovuto far giocare Leaconidi in difesa e ha giocato benissimo, perché lì c'era pure Mazziotti che è un grande attaccante e l'ha tenuto bene. Poi abbiamo fatto questo cambio, Rando in difesa e l'ha tenuto l'attacco, che è mancato, è mancato l'ultimo passaggio secondo me, perché noi arriviamo vicino all'aria, siamo arrivati parecchie volte, ma oggi abbiamo giocato contro la migliore difesa che ha preso subito, se non sbaglio, un solo gol sul rigore. Poi Mascaro, lo sappiamo, è un bravo portiere, e vabbè, per noi siamo a tre punti. Comunque tutto resta aperto ancora. Sì, ancora mancano parecchie partite, ancora deve finire girando d'andata, speriamo nelle prossime partite, e speriamo che faccia un passo falso il Pianopoli. Poi c'è la possibilità di arrivare anche attraverso i play-off. Sì, sì, ma noi cercheremo di arrivare i primi. Grazie. Buona serata a tutti, sovrato uno che ci è sempre stato vicino. Mister Escerbo del Pianopoli, una squadra capolista che finora, l'abbiamo detto in tanti modi, ha subito un solo gol e oggi si è visto. Sì, diciamo che l'avamo preparata anche bene perché abbiamo avuto la possibilità di vedere l'Eurogiri Falco attraverso dei video. Sapevamo che la loro forza primaria era lì davanti con i tre, che comunque sono un lusso per la categoria, quindi ci aspettavamo degli uno contro uno ripetuti, delle verticalizzazioni con dei cambi di gioco. Anche quindi ci siamo preparati. Abbiamo una difesa solida e la cosa che più mi fa piacere è che nel calcio bisogna saper soffrire. Noi stiamo imparando a soffrire per bene, in maniera ordinata e senza perdere la testa, quindi va bene. Noi non facciamo calcoli perché io dico sempre alla squadra che ogni partita che viene è la più importante, va a finire che vincevo oggi e magari perdevo la prossima in casa. È un campionato comunque dove si gioca molto più a calcio. Noi l'anno scorso giocavamo nel Vibonese e molte più parole, quindi diventa vincente. Il campionato è breve, questo è un handicap secondo me in generale per tutte le squadre, però va bene, va bene. Grazie.